E quindi una situazione un po' di paura. Dico che, come sono un immigrato dalla Francia, non sono francese, neanche europeo. Dico che io, personalmente, io non trovo la mia piazza qua in Francia. Sei su Fincheradar, il podcast in ricerca, ma in ricerca di se stesso. Quando parliamo di Francia, ci sono tante cose che vengono alla testa delle persone. In particolar modo in questo periodo, quando parliamo di elezioni. Le elezioni francesi stanno causando un sacco di dibattiti, non solo in Francia, ma nel contesto europeo e internazionale. Perché da questo dipende, probabilmente, una delle politiche più importanti del sistema europeo. Perché, come sappiamo bene, diciamo che Germania e Francia sono due rappresentanti abbastanza importanti del sistema politico europeo. Quindi, di conseguenza, avere la Francia con un partito, piuttosto che un altro, potrebbe causare dei problemi molto gravi. Per parlare di politica, ma non solo, in realtà, anche di educazione. Parlare di situazioni problematiche all'interno della Francia. Per questo episodio del podcast, ho pensato bene di invitare qualcuno di francese, che sapesse parlare un po' di italiano. Lo perdonerete per, forse, alcune cose che non saprà spiegare benissimo, ma sapete benissimo che imparare una lingua nuova è qualcosa di molto difficile. Quindi, presentiamo qua Axel, un ragazzo francese che si presenterà a lui, penso, in primo luogo. Ciao a tutti, Axel, vengo dalla Madagascar. Fa da settembre che sono in Francia, un studente in matematica e informatica. Sì, infatti, guarda, abbiamo avuto un po' di problemi, l'avranno saputo probabilmente le persone che ci hanno ascoltato la scorsa volta che eravamo in live e ci sono stati un bel po' di problemi. Quindi, se ci state ascoltando in questo momento, no, non siamo in live. Però ricordiamo, come sempre, che ogni volta facciamo delle live, chiacchieriamo un po', facciamo episodi dove parliamo di filosofia, eccetera. Ma questo è un altro discorso. In questo momento, però, volevo chiederti in primo luogo una cosa. Come stai? Come stai in questa situazione in Francia? Come la stai vivendo? Che cosa ti sta causando tutto questo grande dibattito politico di cui abbiamo parlato prima? Una prima cosa è che la paura che mi viene adesso. Perché la cosa che diciamo oggi è che l'estrema destra, sono montato veramente nella politica francese, non ha mai successo prima. E adesso vedi Bardella, Le Pen, Zemmour, sono delle politiche dall'estrema destra che sono montate veramente velocemente. E quindi una situazione un po' di paura. Dico che, come sono un immigrato nella Francia, non sono francese, neanche europeo. Dico che io, personalmente, io non trovo la mia piazza qua in Francia. Ok, quindi non trovi il tuo posto, diciamo, nella quale stare. E questa cosa è legata più a un discorso sociale, quindi non ti trovi bene con le persone francesi, o tanto più per le politiche, strettamente, quindi per i discorsi legali, per l'accettazione, per la cittadinanza, eccetera? Allora, socialmente va bene, dipende dal tipo di persone. Se io parliamo delle gente che sono giovani come io, non c'è problema. La maggior parte delle gente con chi ho parlato di francesi 100% o di francesi da origini diversi, sono d'accordo con io come immigrato. Però con le persone un po' più vecchie, dico delle persone di 80 anni, più o meno, è un po' più difficile, perché per loro la Francia è per i francesi bianco, bianca. E quindi che crea un po' di problema socialmente tra i giovani e i vecchi. Guarda, il discorso in merito al razzismo, mi dispiace dirlo, l'abbiamo anche qui in Italia. Ci sono tanti problemi, in particolar modo nel discorso sulla xenofobia, quindi la non accettazione di qualcuno che viene fuori dal nostro paese. Abbiamo molta paura, in particolar modo, non so se ti sarai informato però, ad esempio dell'immigrazione delle persone dall'Africa fino a qui in Italia. E questo è un problema che causa chiaramente dei dibattiti importanti, perché comunque il discorso dell'immigrazione, quando bisogna gestirla, poi l'immigrazione è un discorso abbastanza complesso, in particolar modo se si tratta di situazioni dove non arrivano legalmente le persone. E quindi ti volevo chiederti, nella situazione francese, come è che sta funzionando? Cioè, ci sono delle situazioni veramente gravose dove le persone che immigrano in Francia non riescono a vivere totalmente o c'è un welfare un pochino migliore, ecco? Allora, dipende da regione dove vivi. Io, fortunatamente, non mi è mai successo di avere un problema con i francesi. Io sono, tipo, i francesi con cui ho parlato, sono tutti, il 99% delle gente sono gentilissimi. Ma se parliamo, ad esempio, delle regioni che non hanno l'abitudine di parlare con le persone da colore, scusa di dire questa parola, è un po' più complicato. Ci sono tanti witnesses, non so come si dice in italiano, con cui ci sono dei francesi che insultano le persone da colore più diverso del colore bianco. Quindi dipende. Ok. Cioè, quindi è una situazione veramente molto difficile. Chiaramente anche qua. Stiamo parlando con te di questa problematica, ma secondo me è anche importante ricordare che non tutti i francesi, non tutti gli italiani, per esempio, non sono la stessa cosa. Cioè, se esiste una divisione tra Le Pen in questo momento e tra, appunto... Oddio, non mi viene il nome. Non mi viene il nome. Cavolo. Non mi viene il nome di colui che stava al governo fino a poco tempo fa. il presidente Macron, ecco. Macron, ecco. Se c'è una divisione così forte... E poi c'è anche la sinistra dall'altra parte. Ecco, sicuramente c'è qualcosa di mezzo a livello sociale che sta succedendo. Io ho parlato con altre persone francesi, peraltro, e su questo volevo confrontarmi con te, che credono fortemente in Le Pen. Che credono fortemente in Le Pen perché dicono, vabbè, è una persona che comunque vuole andare contro una sinistra molto violenta, che cerca di fare sempre delle proteste, che cerca sempre di mettersi al centro dei dibattiti in maniera molto forte. E quindi io, ipotetico, l'io ipotetico di cui ti parlo, dice, vabbè, dai, Le Pen potrebbe essere una soluzione. Perché comunque Le Pen non è che proprio ce l'ha con gli immigrati, anche se si è visto che ci sono delle cose abbastanza gravi che ha detto in merito a questo. Però, comunque, potrebbe essere un tassello sicuro. E se vai a vedere poi la situazione politica europea, la situazione è molto grave. Cioè, la situazione politica europea è una Europa che cerca sempre di più di conservarsi nella posizione in cui è, in particolar modo con la situazione, vabbè, la citiamo, israelo-palestinese e chiaramente la guerra tra russi e ucraina, che mette comunque molto in pericolo l'Unione Europea. e quindi, secondo me, cioè, poi dimmi tu, secondo te, che cosa ne pensi, ma questo comportamento, forse è un po' proprio dell'elettorato francese di destra, di cercare qualcosa che conservi, è un pochino comprensibile? Allora, d'un punto di vista, sì. Io capisco Le Pen e tutti i politici di destra che dicono che le persone che sono immigrate in Egale, in Francia, dovrebbero essere escludi del paese. Ok, ok. Sì, escusi. Io lo capisco perché, sì, se loro vengono in Francia, non fanno niente, ovviamente che io, come un francese, io non solo concordo, tipo, non concorderò che tu, illegalmente, hai venuto in Francia e non fanno niente. No. Dico che la maniera di, la politica di Le Pen, lo capisco, però, la maniera di farlo non è veramente giusto. Ci sono dei punti nella politica, nel programma di Le Pen, non so se ha visto, se ha letto un pochino il programma di Le Pen, che sono un po', veramente xenofobia. Un punto che ti dico adesso, c'è le persone che hanno due nazionalità, ciderinense, tipo francese e un altro, non possono lavorare nei posti importati in Francia. Questo è xenofobico. Certo. Certo. È un po', è un po' pesante come discorso. Infatti, io, in primo luogo, poi passiamo a parlare un pochino di educazione, così, diciamo, questo discorso è un pochino pesante. Al massimo lo riportiamo dopo, quando iniziamo a discutere in maniera molto più profonda. A me, a me pesa molto. Cioè, a me non fa paura la destra, ok? Perché io penso che comunque alcuni politici di destra possono comunque essere idealmente qualcosa di buono se hanno delle idee buone per loro e vogliono veramente fare quelle cose che dicono, no? Però, il fatto che si stia spingendo per una estremizzazione mi preoccupa molto. Quando si toccano gli estremi molto spesso non è mai una cosa buona. anche se fosse estrema sinistra, è stessa cosa. Cioè, se mi arrivassero adesso in Francia delle persone che mi dicessero, che cavolo ne so, che dobbiamo liberare totalmente lo statuto repubblicano francese, creare una nuova repubblica, roba del genere, o c'è veramente una situazione molto grave, e qui è comprensibile perché lo vogliono fare. Se no, è veramente molto estremo. È veramente molto estremo, no? Quindi, è così. Sì, un problema, tipo, anche, non so se conosce un po' la storia di Francia, però, un francese è una miscola di diverse etnie. Ci sono i tedeschi, ci sono italiani, ci sono delle persone dall'Algeria, quindi, un francese non è solo una persona bianca, una bianca. Lo capisci che c'è, da primo, ci sono dei migranti da ovunque in Europa che vengono in Francia, tipo, parliamo anche di italiani che sono venuti negli anni 70-50, mi sa, e vedi che la Francia non è solamente un'etnia, ci sono molti diversi. E quindi tu, in un modo o in un altro, comunque, ti senti accettato in Francia per ciò che sei, comunque. Sì, al momento sì, sì, come ti dico, ci sono persone che sono immigrati, ma che sono nati e cresciuti in Francia, che si sentono francesi. Io, se ci avrei, la cittadinanza francese, io mi sentirei francese, e credo, veramente, con i giovani, mi sentirei accettato da loro. Certo. dici, quindi che, comunque, la Francia ti riesce a far sentire parte di un discorso più grande, non ti rinchiuti, diciamo, in un'ampolla di vetro, solo perché sei proveniente da un altro paese, che è una cosa veramente molto buona, è che, ti dico, ti dico io, cioè, quando si parla poi di politica italiana, è un pochino borderline il discorso da noi, perché, alle volte, non è propriamente così, molte persone che immigrano qui in Italia hanno veramente difficoltà, ma te lasciamo questo, anche le persone normalmente in Italia hanno difficoltà a reperirsi un lavoro, uno stipendio, che sia decente, parlano chiaro, ad esempio, i dati in merito agli stipendi italiani rispetto agli stipendi, facciamo caso del Belgio, no? Il Belgio ha degli stipendi alti, con comunque una richiesta di spese alte, ma se paragoni solo Bruxelles con Milano, Milano ti fa guadagnare molto di meno che Bruxelles a livello lavorativo se tu fai lo stesso lavoro, quindi, in molti casi, non in tutti, ma in molti casi, sì, in particolar modo se tu lavori da dipendente, e quindi, sì, è una situazione interessante da vedere da questi due punti, vista da una parte d'Italia, dall'altra parte appunto la Francia, che comunque sono molto vicine, ma a me sarebbe piaciuto anche dire che comunque sappiamo benissimo che tra Francia e Italia molto spesso ci sono un po' di, non lo so, di rivalità stupide, tipo solo il Gioconda. questa rivalità non è veramente vero, da un punto di vista francese, noi, allora, io quando dico noi per persone che vivono in Francia, non c'è veramente rivalità tra l'Italia e Francia, io quando parlo con gli italiani, spesso, c'è questa rivalità che dicono i francesi sono dei merda, scusa di dirlo questa parola, ma da noi francesi non c'è francesi, non c'è veramente questa rivalità, siamo più admirativo di voi. Sì, sì, no, lo capisco benissimo anche perché io in primo luogo sono un ammiratore della Francia, però, guarda, sul discorso culturale forse potremmo aprire un altro episodio del podcast e parlarne tipo per un'ora. Adesso vorrei spostarmi più che sulla parte educativa, cioè sulla parte, scusami, culturale e sulla parte educativa e di conseguenza ti volevo chiedere com'è che funziona il sistema francese? Perché ti spiego un attimo come funziona quello italiano così riesci a capire quali differenze fare. Nel mio caso, ad esempio, noi viviamo in Italia, abbiamo cinque anni di scuola elementare, tre anni di scuola media e dopo che fai la scuola media praticamente tu hai la possibilità di scegliere tra varie scuole, cioè tu che ne sommettiamo caso finisci la scuola media e davanti a te hai la scelta di o andare a una scuola scientifica, quindi a un liceo scientifico, o andare a un liceo linguistico, o andare a un liceo classico e a seconda della scelta che tu fai, le materie che tu farai saranno diverse. Non è tipo come il sistema americano per farci capire, cioè che tu vai nella scuola superiore e scegli tu le materie da fare, no? Quindi è un po' quello il discorso. E dopo tutto questo, dopo cinque anni di questo, arrivi all'università. Quindi praticamente succede che noi finiamo la scuola leggermente dopo gli altri stati, tendenzialmente. 19 anni, gli altri stati li finiscono 18, roba del genere, tendenzialmente è così. Dimmi tu. Allora, alla scuola abbiamo, passiamo quattro anni della nostra vita, abbiamo tipo, i nomi delle classi francesi sono un casino. Ti dico, abbiamo il primo anno della scuola si chiama CP, per Cours Preparatoire, credo. Dopo abbiamo il CE1, CE2, CM1 e l'ultimo anno si chiama CM2. Ecco. E dopo passiamo alla scuola media, cominciamo dalla classe di 6M, quindi in italiano sarebbe la 6ta, esatto, tra il terzo. Ok? Cominciamo al terzo, possiamo scegliere nostra specialità, tipo, se vogliamo fare un liceo generale, un liceo professionale dove tu puoi specializzarti a fare delle cose specifico informatica e dei mestieri del genere. Sì, abbiamo la stessa cosa anche qua, calcola che l'unica differenza è che noi abbiamo i licei che sono più fatti per andare all'università e poi abbiamo gli istituti tecnici, gli istituti professionali, gli istituti tecnici sono una via di mezzo invece gli istituti professionali sono proprio legati a un lavoro che tu farei poi in futuro. Capito? Sì, sì, capito, ma questo comincia dal collegio, dalla scuola media e poi finito il terzo, l'ultima classe della scuola media andremo in liceo. Abbiamo il secondo, si chiama, il secondo ha scelto tra la classe generale dove si impara tutto e specializzata che si chiama professionale, STMG ok? E dopo il primo anno tipo si chiama primo il premier dobbiamo scegliere delle specialità matematica, scienza, fisica, eccetera. Abbiamo tre, dobbiamo scegliere tre specialità per quello e quando arriviamo all'ultimo anno del liceo dobbiamo lasciare un specialità e rimanere solo due. Ok. Quindi per il mio caso ho scelto nel primo dell'ultimo anno ho scelto geopolitica, matematica e fisica e all'ultimo anno del liceo ho lasciato la fisica per fare solo matematica e geopolitica. Quindi ho una domanda. in Francia tu hai un'educazione politica anche? Sì. Ok. Di che tipo? Cioè perché questa cosa è interessante per gli ascoltatori italiani. Allora si tratta di tutto in classe geopolitica si chiama storia geografia geopolitica e scienza politica. Si tratta ovviamente della Francia perché siamo in Francia dell'Europa e dell'America. e trattiamo dei soggetti un po' d'attualità diciamo l'Ucraina delle problemi che ci sono in America e così si fa la geopolitica in Francia in classe di geopolitica. Secondo te questa cosa è giusta o no? Perché ti dico poi quello che sta succedendo qui in Italia proprio merito a questa discussione appunto dopo che mi spiegherai di questo? In che senso giusto? Cioè tu lo reputi qualcosa di utile per un cittadino francese o lo reputi qualcosa di boh che puoi lasciare disparte di inutile di futile da lasciare da un'altra parte? Io penso che la storia della geopolitica è veramente importante per i studenti perché siamo giovani arriviamo presto a 18 anni al fine di liceo e dobbiamo sapere la politica che sta succedendo nella vita tipo io non mi piace l'inorenza come studente abbiamo bisogno di imparare delle cose che sono fuori dall'Europa e anche nel paese dove vivi e credo che è veramente importantissimo certo no infatti guarda su questo discorso c'è un gigantesco dibattito qui in Italia non so se non voglio far passare per chi ci ascolta l'Italia come un paese brutto eccetera però comunque secondo me è importante vedere i punti di vista differenti no perché comunque avere qualcuno di estero e vedere insieme a lui anche la situazione secondo me è molto molto di esterno scusatemi è molto molto importante comunque ti spiego un attimo come funziona qui in Italia ecco qui in Italia teoricamente dovrebbe esserci una educazione civica l'educazione civica è quella materia che ti insegna come essere un buon cittadino ok e quindi ti insegna teoricamente perché la teoria che lo vuole ha la legge che cosa è che ne so la comunità LGBT che cosa sono le problematiche ambientali il climate change e roba del genere no però però qui in Italia a livello scolastico c'è un problema molto forte il fatto che l'educazione civica viene sempre messa in secondo piano sempre messa in secondo cioè anche se si dice che è comunque molto importante come materia alla fine dei conti è una cosa che si sceglie tra i professori e non si non la si studia cioè non si studia per davvero ti faccio un esempio ok molto molto pratico se voi studiate la politica francese attuale voi sicuramente studierete che ne so quali sono stati i partiti storici della Francia quali sono state le rivalità forti o che ne so mettiamo caso parlando un po' di attualità studierete che cosa sta succedendo tra Russia e Ucraina che cosa sta succedendo tra Israele e Palestina che almeno in maniera abbastanza semplice no in maniera un po' riassunta però lo studierete no penso dimmi tu allora credo che ci concordiamo ci concordiamo tra Italia e Francia perché abbiamo questa materia che si chiama Ansegna morale sarebbe in italiano si insegna morale e civica che si mette anche nel secondo piano e nel senso che non si studia veramente questa questa materia e io quando ti ho parlato della materia geopolitica è un'opzione che devi scegliere quindi tutti i studenti non lo fanno solo alcuni ok ok capisco no perché sai la cosa che mi preoccupa una delle cose che mi preoccupa di più in realtà quando si tratta di politica è che un ragazzo mettiamo caso che veramente dovesse passare 18 anni ok una cosa normalissima che tutti dovrebbero fare e dopo dovrebbe iniziare a votare e come fai a votare se non sai una ceppa di niente sul discorso politico del tuo paese cioè io ho veramente paura di ciò perché molti criticano probabilmente anche in Francia il discorso sul populismo no i discorsi legati al fatto di avere un contatto forte con il popolo non avere un ragionamento dietro quello che si va a dire e quindi che ne so piuttosto che dire la cosa più logica si dice la cosa che più fa aizzare le folle fa provare dei forti sentimenti ecco in questo senso a me dispiace perché il modo per sconfiggere proprio questo è sconfiggere le emozioni e capire profondamente la tua visione politica cioè se tu non sei un qualcuno che studia un pochino di geopolitica o almeno che studia un po' di politica quindi non legata alla geografia ma proprio politica in generale che cosa è la destra che cosa è la sinistra come si è evoluta la destra e la sinistra nel paese in cui vivi roba del genere ecco allora in quel momento tu potresti avere delle idee un pochino più chiare no e non votare il primo partito che ti sembra il più il più forte il vincente è di turno che è un problema esatto l'ignorenza nella politica è veramente pericolosa e perché io credo perché c'è il salindo dell'estrema destra perché l'ignorenza io dico le gente che votano l'estrema destra sono in generale si è visto la mappa della Francia le gente che votano l'estrema destra sono delle persone fuori delle grandi città quindi delle persone che non hanno contatto con i migranti o almeno poco e penso che loro vedono solo su con il tv tipo il tv un po' di estrema destra che ah le persone da sti origini hanno fatto quello e c'è una cliché certo vedi certo loro non cercano di veramente sapere che la colpa di immigrati o è giusto che come posso spiegare che è giusto un cliché che succede nel paese no certo no è la cosa che mi fa più paura perché io capisco benissimo poi ci saranno le persone nei commenti che sicuramente si spartiranno le acque si diranno ma sei uno scemo o roba del genere e già me la immagino però il fatto che al giorno d'oggi non si riesca a fare una politica laica cioè priva di quel senso di partito no quindi devi stare se io sono una persona di destra ti spiegherò sempre in relazione alla destra tutto quante le cose ok beh allora chiaramente ci saranno delle persone che mi diranno questo però se non ci muoviamo secondo me per una politica un pochino più laica e allora veramente avremo dei grossi problemi e io ne parlo da un punto di vista filosofico non è da un punto di vista politico perché la politica può andare avanti quanto vuole no la politica può andare avanti fino allo sfinimento ma da un punto di vista filosofico probabilmente tutto questo potrebbe andare a crollare un giorno cioè se mettiamo caso le persone continuano in un sistema democratico a non essere educate la politica potrebbe tranquillamente succedere che facilmente delle persone un pochino più con cui in Italia si direbbe col braccio alzato destro ma dittatori in generale ok vadano vadano veramente a prendere il potere ed è pericolosa come cosa non so se mi capisci no hai tutta mia ragione io ho corretto con te la politica si deve insegnare da poco tipo quando dico da poco da liceo per essere pronto quando sei elegibile a votare quindi nel senso che quando arrivi si arriva nel liceo all'inizio del liceo dobbiamo mettere al primo piano l'insegnamento della vita politica per viattare le i problemi che abbiamo oggi in Europa e in Francia sì anche perché la cosa che mi fa ancora più paura è che molte persone mi potrebbero venire a dire ok io poi mi dispiace che questa cosa stia diventando un po' l'argomento principale però in fondo è così che succede questo finché la parliamo di cose alla fine arriviamo su dibattiti abbastanza interessanti ecco mi interesserebbe dire che se parliamo tanto spesso in particolar modo qui in Italia ma penso che anche lì in Francia di educazione e quindi di un'educazione che deve essere sempre pronta a creare di nuovi cittadini penso che sia ancora più importante creare delle buone menti che ragionino sulle cose e che riescano a capire l'attualità e non solo il passato e anche molto spesso il passato remoto per dirla in senso grammaticale cioè se io vedo che ne so l'antica Roma che tutte le cose che hanno fatto Cesare eccetera per carità sono importantissime per una persona classicista veramente sono importanti ma importanti ma in primo luogo bisogna sapere come diciamo vivere nella società di oggi secondo me e poi tutte le altre cose cioè non si può pretendere capito di vivere in una società priva di priva di concetti che ti possano far capire che andare a votare è importante perché anche in Francia da quanto so l'assenteismo è è pesante pesante sì sì ti capisco però capire la storia di un paese importante io io dico che per capire anche la situazione politica del paese oggi dobbiamo conoscere la storia del paese politicamente quindi sì lo capisco che quando dici sì andiamo in passato tipo in passato lontano dall'ampero romano non è importante però l'istoria io dico che è importantissimo tipo da il nazismo a oggi fino all'oggi certo certo ma infatti la cosa la cosa grava qui in Italia è che molto spesso non si arriva neanche a finire degli argomenti fuori per esempio non lo so dal nazismo cioè se arriva il nazismo fine della storia non esiste più 500 perdonatemi gli anni 50 gli anni 60 del 900 o gli anni 80 o ad esempio la guerra non esiste non esiste la guerra del Vietnam non esiste e la guerra dell'Afghanistan non esiste si danno solo dei concettini così piccoli che in realtà sono fondamentali per comprendere l'oggi sono fondamentali cioè come fai a parlare di Stati Uniti d'America e pensare ancora ai Stati Uniti d'America dagli anni del 45 ma sono cambiati totalmente capito ok va bene le politiche democratiche la base è quella ma i politici che ci sono stati le scelte sono totalmente diverse ma come per esempio l'URSS che adesso non è più URSS ma è Russia cioè è molto pesante il fatto che molto spesso non si sappia come l'URSS quindi l'Unione Sovietica è passata a essere la Russia cioè è molto grave sì credo che che i Stati europei devono tipo rifare un programma a proposito della storia perché è scaduto è scaduto nel senso che non risponde ai problemi attuali che sia io parlo della scuola in generale tipo non so se si vede in Italia però io penso che in Francia la maniera di insegnare è troppo in ritardo sì io devo paragonare ai paesi del nord cioè Svedia Norvegia Danimarca che ne so io vedo che la Francia è in ritardo per insegnare queste cose guarda ti capisco benissimo da poco anzi da poco ormai da qualche mese a questa parte in questa prima stagione di Fincherada l'abbiamo parlato con una professoressa d'Italiano la citiamo anche Cristina Ledda che con la quale con la quale abbiamo parlato proprio del fatto che comunque il modello il modello secondo lei cioè il metodo potrebbe essere comunque qualcosa di buono ma cioè perdonatemi i contenuti sono buoni ma è il metodo che manca cioè i contenuti ci sono ci sono i contenuti per parlare di guerra non lo so delle guerre che ci sono state in Jugoslavia ci sono contenuti per parlare di tutti i problemi legati alla Turchia o alla situazione israelo-palestinese ma non c'è un metodo che permette di arrivare veramente a quei punti ed è veramente pesante cioè veramente veramente molto pesante con questo adesso abbiamo fatto molte differenze no ma volevo prendere questa terza parte del podcast per parlare insieme a te di qualcosa di molto interessante cioè della divisione cioè dell'unione in realtà che ci potrebbe essere tra questi due paesi cioè molto spesso parliamo dell'Italia qui in Italia come qualcosa di totalmente distante dalla Francia secondo me in realtà sono molto più vicina anche da quanto abbiamo visto e quindi volevo chiederti secondo te almeno per quanto hai conosciuto gli italiani per quanto hai conosciuto la cultura che stai studiando ecco quali collegamenti vedi con la Francia collegamenti tra l'Italia e la Francia dicevo la prima cosa che mi viene a testa io dico la lingua deriviamo della lingua romana tipo latino e si assomiglia veramente tra non so se vedi la statistica che dice che 9% della lingua tra francese e italiana si assomiglia parliamo di parole e anche culturalmente il sud della Francia con il cibo la maniera di vivere si assomiglia veramente agli italiani perché sono un po' più diversi l'ovest sono un po' più diversi perché sono un'altra etnia all'est sono un po' più tedesco però il sud della Francia con l'olio d'oliva la maniera di parlare l'emozione che escono delle persone si assomiglia veramente all'Italia secondo te che cosa è causata questa questa rivalità tra cioè che gli italiani percepiscono nei confronti dei francesi ci sono allora a testa mi viene due punti primo la coppa del mondo con Zizou Zidane si scherza ma è vero si scherza ma è vero c'è c'è una rivalità che si sente ancora nelle cuore dei francesi quando parliamo di questa coppa del mondo tipo questa coppa del mondo doveva essere francese e anche il secondo punto direi quando gli italiani sono venuti a immigrare in Francia durante non so in quale anni i francesi si sentono si sentivano un po' più alto non so come posso spiegare quello si sentono superiori rispetto agli italiani e c'è un assegno che ho letto in Francia c'era una cosa che dice una spaggia che vietare per i cani e gli italiani e vedi che è assurdo e quello che penso che gli italiani hanno non posso spiegare la parola esatto non so se esiste in italiano però diciamo amarezza credo non so se capisci la parola amarezza quindi credo che gli italiani hanno molta amarezza rispetto ai francesi ok no guarda da noi le cose che ci rendono molto amare la relazione con la Francia che secondo me sono per stupidaggini comunque è il discorso in merito alla gioconda qualcosa la gioconda sai che cosa potrebbe essere potrebbe essere che la gioconda è nostra vabbè penso che penso che un po' l'arte sia per tutti a me dispiace a me dispiace affermarlo perché comunque dai sono italiano ma in fondo l'arte è per tutti se un'opera d'arte italiana arrivi in Francia e rimane lì ma ok va bene cioè anche anzi è meglio perché se viene tenuta bene se viene gestita bene e comunque si sa che quell'opera italiana è bene cioè è meglio è meglio questo l'importante è che venga detto no che quell'opera italiana quell'opera tedesca quell'opera di quello quell'opera di quell'altro penso che sia più globalizzante il discorso perché è chiuso nella piccola nella piccola sfera culturale di un paese ecco quindi si è un po' così oltre facendo questo secondo me proprio per finire questo episodio è importante sottolineare secondo me tre volte proprio questa cosa che abbiamo parlato di estrema destra che abbiamo parlato di sinistra che abbiamo parlato di educazione comunque abbiamo visto che c'erano dei punti in comune molto stretti tra i due paesi e non è da sottovautare questa cosa in particolar modo in un discorso politico quello europeo dove molto spesso c'è un pochino quella diffidenza degli altri paesi l'Italia che fa la Francia che fa la Germania che cosa sta facendo la Spagna la Grecia eccetera e quindi secondo me mettere questo punto cioè dire ok ragazzi siamo comunque tutti quanti europei è un po' vero cioè è un po' quello cioè non puoi negare il fatto che l'Europa comunque in un modo o in un altro sia tutta unita dal fatto che siamo un gruppo piccolo perché comunque nel mondo siamo piccoli minuscoli a livello continentale però siamo veramente molto stretti a livello culturale cioè le culture che si vanno a intrecciare sono sempre culture che comunque in un qualche modo hanno avuto relazioni tra di loro io penso che non concordo con te io vedo l'Europa come l'Africa e sono tutti diversi dall'ovest dell'Europa all'estremo non si assomiglia per niente tipo se devi fare una paragonata tra la cultura brutton che è all'ovest della Francia e delle culture slaviche tipo la bielorussia l'Ucraina non si assomiglia non possiamo dire che siamo che voi siamo noi siamo tutti europei è vero nel senso che veniamo del stesso continente però culturalmente no e anche linguisticamente no certo certo ovviamente questo però dico che comunque inevitabilmente comunque siamo un po' uniti anche da un punto di vista è un po' strano da dire da una persona che comunque agnostica però anche da un punto di vista religioso abbiamo avuto molte influenze religiose costanti nel tempo no ok abbiamo il cristianesimo ortodosso abbiamo avuto il cristianesimo protestante il cristianesimo cattolico però comunque nella sfera cristiana siamo stati tutti quanti in un modo o in un altro nel bene o nel male nell'anglicanesimo o nelle nelle rivolte protestanti di lutero che comunque in qualsiasi caso siamo stati in quella sfera lì e quindi è quello che voglio dire cioè nel senso che è molto importante il fatto che ci siano differenze culturali ed è sempre di valore quello mettere in risalto il fatto che noi siamo noi abbiamo le nostre le nostre usanze e voi siete voi avete le vostre usanze però quando secondo me si parla di politica cioè dovremmo essere comunque sul piano del fatto che ok siamo amici non che siamo rivali che siamo nemici nel mondo utopica utopica utopiche sì è vero però nella realtà non si può fare questa è colpa della cultura ancora una volta scusa se mi ripete però se c'è della se c'erano della guerra in Europa è anche colpa della cultura che sono diversi io penso io ad esempio tra la Francia e la Germania non si assomiglia si odiano da primo oggi è meglio la sensazione tra loro è meglio però politicamente non è fattabile di avere una politica europea unica e insieme perché ancora una volta culturamente ci sono diversi culture certo certo il fatto è che non lo so è un discorso abbastanza interessante che secondo me sarebbe interessantissimo da aprire in un altro episodio del podcast perché comunque è molto molto largo però penso che per questo possiamo concludere qua nel senso in questo momento tu ti senti dell'Europa quindi pensi che questa questo episodio del podcast è europeo no sto scherzando ovviamente no a parte gli scherzi comunque si è una è stata una puntata secondo me veramente bella ti ringrazio per essere stato qua ma prima perché non me ne dimentico mai c'è l'ultima domanda tu sei una persona che legge? che si legge che legge in generale? articoli sì articoli politica e scientifica sì ok guardi per caso tipo cinema roba del genere perché io volevo chiederti piuttosto che stavolta tre libri perché so che forse potrebbe essere qualcosa che a te non non ti fa molto plaisir non ti piace tanto però quello che ti volevo chiedere tre opere d'arte che ti hanno veramente cambiato la vita tre opera dell'arte che mi hanno cambiato la vita che siano cinema che siano anime che siano film cioè veramente anche libri o anche fumetti la qualsiasi veramente videogiochi anche se volendo allora penso perché è una domanda che non che non mi fa spesso quindi devo un po' pensare allora un film direi un film che mi ha cambiato direi un film francese che si chiama Le Chant du Lou ok si tratta di una submarino nucleare francese ovviamente non potrei spiegarti perché però mi ha cambiato un po' la vita nel modo di pensare un libro direi un libro che ho letto mi ricordo da piccolo con aliceo si chiama Le Maladie Maginère non so si conosce perché ti parli un po' francese La Maladie immaginaria esatto da Molière ah Molière ok 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 Molière si 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 l'ultima cosa che artisticamente mi ha cambiato la vita io direi un'opera d'arte malgascio che si trova nel mio paese d'origine non mi ricordo del nome scusa però mi ha aperto un po' la mente si come 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 è la vita malgascio con questa opera d'arte beh saranno di sicuro delle opere che per le persone del podcast cioè che sono interessate comunque a un po' di cultura francese di sicuro Molière sarà anche l'altro film che hai citato saranno veramente molto interessanti per scoprire anche per le persone che sono interessate alla Francia un po' di questa cultura vi lascio tutte quante le cose in descrizione e come sempre vi dico di scrivervi fare tutte quelle cose che volete peraltro vi ricordo che c'è un canale DTP dove potete stare ma con questo nulla grazie e ci vediamo alla prossima